Che succede con questa gente del battaglione? Si comportano come se fossimo in un'area ad alto tasso di criminalità e rubano i rifornimenti appena toccano terra. Nel mio quartiere non è accettabile, specialmente se ci sei tu. Attenzione, nemici in arrivo. Attenzione, scorte sotto attacco. Attenzione, scorte sotto attacco. Attenzione, scorte sotto attacco. 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 Attenzione, scorte sotto attacco. Non è arrivato! Passqua, attelante, all'estoro! Grazie a tutti. Abbiamo aperto un uomo. È andata! Bordi i temi capertura! Voglio la zeta, ho insicurezza! Ho pochi colpi, devo ricaricare! Conchita! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 Ricorda che ogni tanto devi anche riposare. Ho fiducia nella dottoressa Kender. Non voglio farti perdere tempo. Ehi, come ti va la vita? Non se ne vede più molta di brava gente. Erebbe stato un grosso problema se avessimo perso la centrale elettrica. Grazie.